Il Festival Settembre Prato e Spettacolo da Piazza Duomo si sposta a Villa Guicciardini nel comune di Cantagallo. Una consuetudine, un appuntamento fisso ormai da cinque anni. Infatti alcuni concerti del Festival, che ricordiamo organizzato da Fonderia Cultarte, di cui TV Prato e Media Partner, si svolgono qui nel Prato di questa splendida dimora storica. Due gli appuntamenti in programma, uno domani e poi giovedì ci sarà un secondo concerto. Come vedete infatti alle mie spalle è in corso l'allestimento del palco che ospiterà grandi artisti. Ultime due date del Festival, di questa non edizione del Festival. Quindi che cosa c'è in programma in questo Festival che si sposta a Villa Guicciardini? Sì, abbiamo appena lasciato Piazza del Duomo. Il palco principale del Festival si sposta nella bellissima Villa Guicciardini, dove l'11 di settembre si esibiranno Iperturbazione insieme a NADA per un omaggio a Fabrizio De Andrè, in particolare al suo album La Buona Novella. E mi fa piacere ricordare che questo album sarà dedicato a un progetto a cui teniamo molto del nostro territorio, che è Il Borgo Tutto è Vita, per cui tutti i ricavati dei biglietti di questo concerto saranno interamente devoluti appunto al progetto che accompagna le persone che sono nella fase terminale della propria vita e che quindi cerca di restituire loro una dignità fino all'ultimo istante. Il giorno dopo invece chiude il Festival Roberto Vecchioni con una delle ultime tappe del suo tour estivo che ha registrato i sold out in tutta Italia, anche reduce del bellissimo duetto fatto insieme ad Alfa nello scorso Festival di Sanremo. In questo caso sono rimasti davvero gli ultimissimi biglietti, per cui invito gli spettatori a affrettarsi e ricordo anche che per entrambi i concerti, sia quello di NADA e Perturbazione sia per Roberto Vecchioni, gli spettatori hanno la possibilità di cenare nel parco della villa, prenotando attraverso la nostra mail info.fonderia.gultart.it oppure direttamente sul circuito di vendita dei biglietti che è ticketone.it Grazie a tutti.